Forza e corazzate in formazione! Guardiamoli dove fa più male! Guardiam! Ormai! Guardiam! Guardiam! Elefano Lo scopo! Guardiam! Guardiam! Prima linea nemica di Stata, muoversi! Seconda linea libera, avanti! La scaraba è tornata! Questa volta faccio a serio! Bravo, sul fianco, cobriteci! E lo direi che noi basta G! Lui lo sconfiggerà! Goss distrutto! Senti! Assaggia questo! Potrai vedertela con me, è bello! No! No! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie! Grazie per la visione! Panteria sulla guglia! Arrostiamoli! 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 È finita così! Devo aver incrociato un circuito! Arrostiamoli! 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 Sì, 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 sì! ecco i il tuo obiettivo è appena più in basso il tuo obiettivo è appena più in base La sala cartografica, avanti, attende la tua approvazione. Grazie.